Ma qui in questo senso di colpa, lì c'è dell'ironia, l'ironia, quindi lui si autoscaggiona, dice ma voi dite che colpa mia, mi sono autoconvinto che sia colpa mia, ma lui non ci crede in quello che dice, capito? Recita una parte, recita la parte del disilluso, quello che è talmente confuso che non crede né a se stesso né agli altri, ma quello che veramente è, quello che veramente crede, non te lo dice anche, anzi lo manifesta, perché se non credeva più avrebbe sciolto, i 5 stelle non esistono più dopo la scomparsa di Casaleggio, per dire, invece no, sono andati alle elezioni, hanno preso un dignito sul 15%, hai capito? Non risponde sul figlio, accusa semplicemente la buongiorno, cioè si scagiona anche da lì, accusa la buongiorno ma non risponde sul figlio, ma è la sua dialettica, questo comizietto così, io facevo politica fin da prima, questo successo mi è capitato, questo successo politico mi è capitato, parlavo delle auto elettriche, era una cosa naturale, erano talmente cose elementari che mi avete pure votato, avete fatto la cosa più scontata che potevate fare, in questo invece è accusatorio, è un tono accusatorio nei confronti di chi l'ha votato, no, è un tono accusatorio, è un tono realista, hai capito? È una constatazione, quindi in realtà è molto più sfumata la posizione di Grillo, non è una, se voi dite che lui chiede scusa, poi a parte che se chiedesse scusa davvero, sarebbe ancora più grave, perché allora ha portato il paese nel baratro, secondo la narrazione che lui descrive e chiede scusa, chiede scusa a 60 milioni di italiani che però ha messo in reddito e nessuno ha trovato lavoro, però ha fatto le promesse e non le ha mantenute, eccetera, 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 questo vale per qualsiasi politico, però l'autoironia è molto più sfumata, non è semplicemente una colpevolizzazione delle sue scelte, è una missione di colpa, se fosse una missione di colpa, ripeto, i 5 stelle...